Grazie a tutti Ciao 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 No, siamo per la sposa! Ok, va bene, c'è la cimura o un tempo? Eh? Sandra, prego! Hai messo qualche cosa a quello che c'era? Che ha detto delle cose di cartone, pubblicità... Che ci doveva, te? Ti ricordate qualche cosa? Io non ho ragazzo. Chi non sa? Quella sera che siamo state a cena insieme, avete parlato di qualcosa? Fatto di Fioraia, Fioraia... Dì a tua sorella che manda 40, 50... Eh, però non ho capito di capire il resto. Ma i cartoncini di pubblicità? Io non lo so, Guido. Tu, padre, hai chiesto qualcosa, ma nessuno ne ha cercato quel piccolo. Io, padre, non ho capito di capire il resto. Un anno dice che ci doveva, poi c'è un'altra cosa? Cosa hai chiesto? Ma non è la cartoncina? Cosa hai chiesto? Cosa hai chiesto? No, scopate, perché... Cosa hai chiesto? Perché non lo facerà in mezzo con i loro... ...però che potrò di mandarlo? Parla più forte... Ma lui parla dei pepe, non ci... No, 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 no... Non ci facevano dopo prima... Ne abbiamo convocato... Dice che ci avevano parlato, quando sono venuti loro su... E quel numero che hai il telefono ha il Gisto il vostro? No, no. 50-20 secondi. Mi faccio chiamare, scusami. Come? No, no, non lo si fa, è Roberto! No, no, non lo si fa, è Roberto! No, lui si fa richiamare a tappare, di seguito! Poi ne va venuto adesso, Roberto! E con lo tappare! La crema! Ma c'è andrò! Ciao, dove c'è l'edere? Dua! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. metti a tutti. 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 e questo. a tutti. e no. fatevi dirci. guarda. il canadone e zio Guido hanno avuto il pensiero che canadone e zio Guido? solo io, questo facciamo a casa questo è il mio? no, questo è il mio, mi spiace questo è il mio? a te San Benedetto, che bello questo cuore, si, la donna lo vedi io, l'hai visto? è certo che la Madonna ha anche dovuto andiamo, andiamo come andiamo adesso? c'è l'indasica tu sei un amore me lo dici 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 mia moglie ciao metto la rovescia metto la rovescia io ho lavorato, questa giaca ti sta disgustata porto Sandro, lega la giaca, giù metto qua, metto qua, dopo devi riveliare papà, vedete se vai con gli uomini per lui si, dall'altro lato sono ancora di domani per l'altro la restra, qui a costruita la gara d'acqua di Fragsino, ma da qui per l'arbe c'è l'arbe, che a l'arbe c'è l'arbe, che a le mangiare la porta fagioli e le c'è l'arbe, che è piacere le c'è l'arbe. No, 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 no. la casa di stuttura come? stutta 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 nila è via noi di nuovo pensando prendere l'albero'REiffenso è lo canadone o canadone l'barre il brind aka gli baci fada ma cenni si Grazie. Un aramaio. In Bolacca. Cosa sarebbe? È un fiore. È un fiore. Sono fiori? Ma quello è vero? Sì. È nato nel 1892 ed è morto il 12 maggio del 1970. Significa che nel 1970, dal 43 al 44, quando questi sono entrati qua, quant'anni? Era nel 78 anni. Scusa? Penso proprio di caboccia qua. Sì. Scusa, erano tutti i giorni profi, eh? Ah, eh, questo è il 21, 22 anni. 22, 23, 23. 22... Da vent' anni ai 25 anni. Fa che andiamo qui noi. Questo è il 44. Questo è il 44? Questo è il 44. E' Vero 14 al 44. Questo è una guerra che si fa il 44. 3 del 5... 3 del 5.... Niente, niente. 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 Niente 60. Niente. Questi qua sono tutti ebrelli, ci sta la tomba Ci sta solo zaffero e lire, quando liberarono l'abbazia di Montecassino Un attacco Un attacco Un attacco Under March Mausi Chi è che? Non ti serve Non si serve Ma vede, quello che ne dipone è qui E andava là sotto Però quanto è bello quello Se ne stanno sovrapposti Beh si vede Se tu lì mi fate stare Ma quella No, 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 via più Via No, 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 via No, no, no 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 No, no Si deve essere Ma tutti i fotografi Si è preso un milione Eh Guarda no Una bocca No, no, no No, no Che sa fa Marzia? 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 Che roba Io sto stendo filmando Io sono l'attrice, no? Oggi siamo diventati Non si può entrare Per chi Non vanno entrati No Non si può entrare E poi hanno incendiato Hanno paura sempre Poi scoppino i progetti Ancora ci sono le bombe dentro I progetti Eh, le vanno Che è meglio? Ti sentitevi Vedete C'ha L'anno scorso Sono scoppiati 40 progetti I bambini Non spegnono più Con l'acqua Leggono gli aerei E' una cosa Vabbè I commenti li facciamo a casa E' la targa di fondi? Fondi? E' fondi E' fondi E' fondi E' davvero? E' fondi E' fondi Roberto, quando vengo a Rimini la prossima volta mi viene accompagnato fuori l'imbopoli a Pretappio, il paese di Mussolini, ci sarà qualche cosa da vedere, no? Si, c'è il tumulo su, c'è il tumulo su anche, la tomba sua, doveva essere posta e ce l'ho fatta qui a mezzo busto? Un quarto Un quarto Un quarto Un quarto Un quarto Un quarto Non è meglio fare con lui, dove stanno fanno piano. E' una Mercedes. Vai a portare Guido al resto, non Roberto. Guido o niente? Chi non ricordava che era? Certo. Non ho capito. No, tu te ne vienes al posto di mamma e macchina in Mercedes. Perché? Si. O vai tu lì? Perché facciamo un po' cazzo. La portano loro. No, no. Ma vai tu con lui. Questo è l'altro eh. Mio marito pure dice ce l'avete portato. Ma la umina è bella. Che bel mare eh. Certo che l'acqua è diversa qua eh. Per lì in bilancio. Si. Ma ti faccio vedere il fondo. Per lì in bilancio. Per lì in bilancio. E' un bilancio. Qui già basta scendere. Ci stanno quasi in bilancio. Si qua come scende è molto profondo. Però oltre tutto. Non c'è spiaggia. E' poca spiaggia. Vedi un po' io certo che una casa di quella linee che stessa rampe da però eh. Guarda. Dove? Perché? Una casa di quella non ci appiegherei. Eh non lo so. Eh. Eh. T'affaccia alla da faccia. E' che bella. E' che bella. Vedute. Saranno vedute meravigliose. Saranno che vuoi fare. Ma sai che bel bene. Come? Si eh carissima. Vado. 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 Vado.